lucio vai grazie buona grazie per la presentazione e buongiorno a tutti sì parliamo di redabissi molto velocemente un'azienda di torino siamo una realtà giovane nel senso che siamo nel nostro terzo anno di età però come vedrete poi numeri clienti e esperienze non ci mancano di che cosa parliamo oggi fondamentalmente del di quelli che noi chiamiamo local che sono tutti scusate che non è partita scusate che sono fondamentalmente tutti quelli che sono al contatto con il nostro cliente potenziale quindi se ci pensate tutti i prodotti che bene o male vengono venduti scusate tutti i prodotti che vengono venduti vengono venduti attraverso quello che noi chiamiamo un canale in diretto cioè c'è sempre qualcuno tra noi il cliente finale quindi che sia un prodotto ma che sia anche un servizio molto spesso c'è qualcuno in mezzo e che cosa succede e questo è un po il mondo del retail molto allargato no quindi se pensiamo a scusa lucio prego ancora tutti quelli che non parlano magari di spegnere il microfono perché così non ci sono interferenze grazie poi ci sono in e cosa succede tutti questi local e guardate a tutti i livelli cioè partite dal ferramenta andate dal negozio di prossimità di alimentari andate dall'enoteca al ristorante chiunque cosa fa cerca di comunicare comunica come può e lo sapete bene no quindi c'è chi fa il volantinaggio chi sponsorizza la squadra del paese chi è più attrezzato perché è più grande più strutturato e quindi fa cose più importanti una cosa che però comuna tutti ma proprio tutti è che la maggior parte della loro comunicazione è fatta da quelli che noi chiamiamo brand cioè voi io voi i produttori produco un faccio un esempio ma perché oggi in testa questo non chiedetemi perché sono un produttore di grappa distribuisco in punti vendita che sia le noteche che sia in ristoranti gli mando le brochure gli mando il cartonato su cui appoggiare la bottiglia eccetera 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 quindi se ci pensate molto spesso la comunicazione che vedete dentro i local dentro quelli che sono sul territorio una comunicazione che arriva in verità da voi dai brand dalle grandi aziende grandi o piccole che siano guardate che abbiano una grande o piccola distribuzione ma quello un po l'ecosistema e i local sono ben contenti di ricevere questa comunicazione perché farla loro un mestiere vi faccio un esempio che è fuori dal contesto ma per capirci pensate se un'agenzia di assicurazioni dovesse fare una brochure di una polizza vita da sola sarebbe disperato quindi cosa succede lo prende dalla sua azienda di assicurazioni ma la stessa cosa in tutti i settori ieri parlavo con prima parlavamo delle del servizio ieri sul caffè no immaginate quanti investimenti vengono fatti dai grandi produttori di caffè nei bar ma perché sarebbe difficile per un bar attrezzarsi e fare e fare quel tipo di comunicazione a tazzina personalizzata piuttosto che i tovagliolini questo è quello che è sempre successo ha sempre funzionato funziona perché perché il brand sfrutta la presenza sul territorio dei local per comunicare col cliente finale influenzarlo poi che cosa è successo però nel tempo che sono nati social network e guardate vi do un dato che a me fa sempre impressione il 71 per cento dei local quindi immaginate tutte le attività commerciali in italia parliamo di 900 mila partite iva hanno una pagina social attiva cioè si sono aperti una pagina social esattamente come si sono aperti la vetrina cioè sono aperti il bar l'enoteca il supermercato e l'hanno aperto fronte strada invece che hanno capito che non dovevano aprirlo al terzo piano l'hanno aperto fronte strada hanno detto bene i consumatori si sta spostando sui social e questi sono andati sui social cioè si sono aperti da soli la sera una pagina facebook chi instagram chi tutte e due qualcuno che prova a fare tiktok la parte professionale linkedin e l'hanno fatto veramente senza paura nel senso che essendo abituati a usarli per i fatti loro hanno iniziato a farli anche per le attività commerciali per se per la loro attività senza budget cioè magari senza la capacità di investimento senza le conoscenze perché gestire una pagina social è un mestiere è un mestiere complesso però l'hanno fatto e hanno attirato loro tantissime piccole community vi faccio un esempio questo è un caso reale settore qua stiamo parlando settore distribuzione organizzata quindi siamo in un settore ma voi guardate di questi esempi ne possiamo fare mille 200 punti vendita fan 214 mila follower adesso pensate un attimino chi segue un mini market ve lo do per certo che il suo cliente cioè se ci sono mille persone che seguono il mini market di portacomaro che è il mio paese sono suoi clienti perché non ha senso se non seguirlo non è la grande pagina bellissima emozionale di di una marca di della gavoli in whisky che ti sta raccontando la storia delle torbiere scozzesi e quindi tu la segui solo per il fascino di questa storia ma stai seguendo la pagina di un punto vendita che racconta i prodotti che in promozione le cose che fa e la passione che ci mette quindi sono tante piccole community sparse sul territorio ma con dei potenziali immensi e hanno una serie di vantaggi rispetto alle pagine social dei grandi brand che sono grandissime noi abbiamo dei clienti che hanno un milione di follower sulle loro pagine però sono sempre pagine corporate stanno raccontando stanno facendo comunicazione il punto vendita fa una comunicazione che fondamentalmente legata a quello che ai concetti che si dice i drive to store cioè ti comunico perché voglio che tu entri nel mio negozio fare qualche cosa ti comunico per attivare dei comportamenti di acquisto di impulso perché mentre sono fermo al semaforo e apro il facebook perché non hanno niente da fare vedo che in quel negozio c'è quella promozione dici tanto oggi ci passo davanti mi fermo a comprare quindi hanno un concetto di comunicazione social che è molto diverso queste piccole community sono molto fidelizzate perché perché i mille clienti del mini market di cui parlavo prima ok io li conosco nome per nome so chi sono e loro conoscono me perché perché io li ho fatto provato una volta ogni sei mesi in val d'aosta prendere la fontina buona e gliela tengo perché so che i gusti che hanno perché gli consegnano per tanti motivi c'è un rapporto fiduciario molto grande io penso agli alcolici io li compro solo in un'enoteca vivo in mezzo al monferrato potrei andare dai produttori mi sono abituato ad andare in un'enoteca ad assi vado lì e compro e mi faccio consigliare quindi se io gli dico guarda vorrei una bottiglia di barbera buono mi dice no guarda non prendere cascina castlè ma prendi coppo io lo seguo l'ascolto quindi hanno anche una capacità di influenza delle persone molto forte qual è stato il problema qual è il vero problema in tutto questo avvento del digital e che i brand che erano abituati a dargli questa comunicazione quindi erano abituati a dare dei materiali no con cui i negozi potevano comunicare ai clienti finali sui social sono stati bypassati perché la pagina social è della sua del mio del padrone salaku che il padrone del mio mini market vi sto dicendo dei nomi veri e lui ci mette quello che vuole molto spesso va a prendere contenuti dei brand ha fatto un accordo con ferrarelle semplifico e quindi va a prendere da ferrarelle dei contenuti le mette sulla sua pagina facebook perché non sa che cosa dire tutti i giorni quindi deve andare a prenderli però nella realtà è completamente libero noi che cosa abbiamo pensato abbiamo pensato di fare invece di sfruttare questa opportunità di dire ma cavolo ma se i negozi erano abituati a ricevere la comunicazione e usarla per il loro negozio immaginate tutte le offerte volantino immaginate tutte le promozioni eccetera ma perché non possiamo fare la stessa cosa sui social perché non si può pensare di trasformare queste tante piccole pagine social ma molto profilate in vetrine da utilizzare per comunicare con l'utente finale facendo anche un favore a chi c'è in mezzo perché se tu mi hai comprato un bancale di grappa perché io ti ho fornito un bancale di grappa e tu sei un'enoteca se io ti do dei post che parlano bene di quella grappa e la gente entra a comprartela cioè tu sei contento che stai vendendo la grappa che hai in negozio e io sono contento perché hai venduto la mia grappa no quindi ed effettivamente così è successo noi abbiamo cosa abbiamo fatto abbiamo fondamentalmente sviluppato una piattaforma che faceva quello cioè permetteva permette in modo molto semplice la piattaforma si chiama redhab di dire a un brand bene dimmi quali sono dai questo servizio a chi distribuisce i tuoi prodotti che siano 50 che siano 5.000 capi che i tuoi contenuti su questa piattaforma e i contenuti usciranno come se li avesse fatti il local in modo automatico aspetta credo claudia devi spegnere il microfono credo che c'è qualcuno con il microfono acceso hai ragione scusami e quindi dai contenuti al al local e local in automatico molto guardate il 98% delle volte il local non fa neanche niente io sono il produttore sono mazzetti d'altavilla che faccio grappe oggi non bevo neanche la grappa non so perché ho questo esempio l'ho data a un bar a un ristorante in un'enoteca automaticamente ho collegato questo bar questo ristorante a questa piattaforma quando decido che c'è il prodotto nuovo perché esce la grappa gialla invecchiata automaticamente questo posto esce dice ciao sono l'enoteca tra le tali ho la grappa gialla nuova appena arrivata di mazzetti questa cosa qua vi dico ha generato allora la partita non è più di comunicazione lì come vi dicevo una partita di vendita quel tipo di comunicazione sul punto vendita genera vendite infatti i nostri clienti all'inizio noi avevamo la speranza che parlassimo sui comunicazione pubblichiamo dei post nella realtà i nostri clienti hanno iniziato a misurare e vi dico ci sono dei numeri importanti di ritorno soprattutto di servizi di prodotti alternativi il prodotto core magari va sempre ma molto spesso sono i prodotti ancillari che il negozio ha difficoltà a vendere perché non ne ha le competenze perché non è capace a raccontare la storia quindi il fatto che il brand che gli ha dato quei prodotti gli dia anche i contenuti genera immediatamente con grande velocità un aumento delle vendite e questa è una cosa virtuosa consideratevi do un altro esempio per per farvi capire cosa succede da una parte vabbè da una parte è chiaro che usare una piattaforma del genere per il brand è comodo no perché raggiungi direttamente gli utenti finali di community che non hai fatto tu sono e poi capillare tu hai cento negozi cento local che vendono il tuo prodotto che distribuiscono il tuo prodotto in italia vai a parlare con le persone che sono intorno a quel punto vendita quante volte vi capita che io faccio sempre questo esempio voglio comprarmi un paio di clark da quando sono bambino che metto le clark se io dovessi dirvi ad asti chi le vende non lo so perché io se vado sul sito della clark non so neanche se c'è lo store locator e sarebbe molto più facile se fosse il negozio della clark che mi raggiungesse c'è se sei di asti so che ti piacciono le clark perché lo sa facebook perché facebook registra tutto quello che guardi perché non viene a comprare le clark capite che il meccanismo è molto più semplice che è il brand che mi dice guarda che belle le clark lo so già che sono belle sono 30 anni che le compro dimmi dove comprarle no e su questo c'è una una cosa che sta risputendo una performance incredibile che è quello di dire ma i social network permettono di andare a raggiungere le persone in modo molto profilato cioè cerco le persone che hanno tra i 30 e 50 anni maschi che vivono intorno a questo punto vendita e che amano le clark facebook sa codificarla questa persona e quindi a me mi troverebbe in questo esempio o che amano il barbera invecchiato o che amano ieri dopo che ho visto il servizio cavolo ieri dopo che ho visto il servizio vostro sul caffè devo comprarmi una caffettiera nuova ho capito che devo comprarmi una caffettiera ma è una roba però in quel caso lì ho iniziato a cercare quindi facebook sa che io sono la ricerca di una caffettiera nuova ok allora considerate che noi facciamo delle campagne con un investimento di 1 2 euro appunto vendita ma quando in una città come asti con 2 euro posso raggiungere tutte le persone a target raggiungo 2000 persone ho raggiunto tutto il bacino potenziale di quel negozio quindi ho raggiunto tutti quelli che possono entrare in quel negozio e comprare il mio oggetto comprare il mio prodotto e per il negozio è un grande vantaggio cioè vende un prodotto che ha e che associa a quello che avete fatto voi dall'altra permette di non avergli sfridi è inutile che faccia delle grandi campagne massive noi abbiamo tanti clienti molto grandi fanno grandi campagne massive a livello nazionale corporate ma ci sta poi il problema qua è tradurre in denaro queste cose in vendite e i negozi sono capaci a fare questo con piccolissimi investimenti l'esempio che facevamo prima che è reale dei 200 punti vendita loro investono 2 euro a pagina a campagna quindi un investimento piccolo che loro in verità vendono al punto vendita dicendo guarda visto che mi hai comprato hai raggiunto un certo numero di rica di di volumi ti regalo questa cosa se gli stai regalando due euro di pubblicità due euro ok raggiungono mezzo milioni di persone alla volta questo è un numero impressionante e soprattutto sfruttando non sono il brand che comunica ma il negozio che dice guarda che io quel prodotto e tu hai più fiducia del negozio del brand spesso scusa lucio perdonami un minuto sì no ti manca un minuto ah sì sì ho finito io ho finito eh c'è il cronometro davanti sono un preciso grazie scusa e vi do due dati per farci capire per farvi capire e uno è i numeri che oggi gestiamo perché tutte queste piccole pagine abbiamo collegate 5 mila pagine rappresenta 7 milioni di follower per darvi i numeri ma la cosa impressionante è che ci sono dei settori molto avanti vi faccio vedere un po di clienti c'è il settore cosmesi eccetera molto avanti altri molto indietro però vi do un dato e questo ve lo do da gran da con umiltà esperti di social nel mondo del locale perché quello che facciamo è che tutti i settori funzionano voi stasera andate a vedere su facebook tutte le attività commerciali che frequentate esisteranno sui social il parrucchiere il negozio il bar il ristorante l'enoteca il supermarket avranno il tutti avranno un canale social che utilizzano quindi fatto di poter entrare in quel ecosistema comunque vuol dire ritornare a toccare il cliente finale mi fermo qua ho sforato di 30 secondi no no grazie lucio e dio a costo di banalizzare e ti chiedo scusa per questo ma vorrei fare un attimo una sintesi perché siamo arrivati a lucio e a red hub perché il primo problema oggi è farsi leggere dalla gente non è banale succede anche con mail personali non parliamo poi delle circolari che bisogna farli ma che nessuno legge quindi non c'è niente da fare però la prima considerazione che c'è venuta dall'uso di red hub è stata quella che almeno se qualcuno vuole lasciarti pubblicare qualcosa sulla sua pagina almeno quel contenuto lo legge allora come narratori del gusto ma anche come molte altre associazioni quello che stiamo cercando di fare logicamente è trasmettere un nuovo modo di comunicare la piattaforma ci consente di risparmiare un sacco di tempo ma noi siamo convinti che tanto per intenderci così usciamo dal settore della grappa le 6.000 pasticcerie clienti di fabbri che si ingegna come buoni fanti a fare panettoni e colombe con lievito madre che coltiva lui personalmente e quando va in vacanza se lo porta dietro dietro perché non perisca o non deperisca no magari certe cose non le sanno neanche mai e vendono il prodotto banalizzandolo come se fosse qualsiasi altro panettone a qualsiasi altro colombe ora qua si pone un problema di contenuti ma si pone un problema di far conoscere i contenuti e oggi come oggi sostanzialmente ma questo lo dirà sicuramente giardani perché su queste cose qua c'è lui che ci che ci lavora se ci pensate un attimo cosa abbiamo bisogno noi per farci notare di una di raggiungere una massa critica di comunicazione se no nessuno ci vede allora se però riusciamo a farci vedere e voi immaginate cosa vuol dire se 6.000 pasticcerie di fabbri tutte hanno lo stesso contenuto sul lievito madre che io spererei che fosse anche sensoriale visto che il prodotto è anche certificato voi capite che immediatamente il volume di comunicazione aumenta di smisura quindi l'idea che c'è stata passata da massimo giordani di lucio gamba e quindi dire da bissi tanto per intenderci parte proprio da questo cioè aumentare la visibilità poi abbiamo l'altra cosa di conseguenza aumentare la reputazione e per aumentare la reputazione ci vorrà naturalmente ci vorranno dei contenuti di qualità tra non molto non questa volta perché sennò diventava una riunione troppo piena parleremo dell'officina della comunicazione sensoriale del lavoro che stiamo facendo che abbiamo fatto e stiamo ancora facendo col Politecnico di Torino e con il corso di design dell'università di Firenze con quello che abbiamo prodotto da questo punto di vista ora Redabissi ci sembrava la soluzione migliore anzi l'unica per ottenere un certo effetto e a Redabissi naturalmente che è socio dei narratori del gusto potete rivolgervi tutti individualmente con tutta tranquillità quando volete a Redabissi naturalmente perché ci sono第一 settimana di fare in tutto di attenzionare a Redabissi naturalmente con il corso di imperativo migliore per aiutare un pollo di corso di sicurezza di'ia parte che sanno potendo! Grazie.